Conte Diamonds in Fiera Vicenza, Vicenza Auro September 2022, porta alle emozioni legate al mondo del diamante con una nuova collezione, collezione Columbia. La collezione Columbia fa parte di un nuovo percorso, una nuova linea strategica che abbiamo iniziato ad intraprendere Conte Diamonds. Fino a ieri la nostra vocazione era quella di un gioiello di lusso che ci piace definirlo quotidiano, un lusso quotidiano. Adesso vogliamo alzare un po' l'asticella e l'idea è entrare anche noi nel segmento dell'alta gioielleria e lo facciamo da subito con una collezione importante, una collezione che abbiamo denominato Columbia, proprio perché il punto di forza di questa collezione sono gli smeraldi colombiani. Lo smeraldo colombiano è una pietra preziosa molto diversa dai normali smeraldi per la particolare lucentezza, il particolare colore e la particolare brillantezza. Anche in Columbia esistono differenti miniere che danno un output diverso di pietre preziose. Noi abbiamo scelto la regione di Muso, quindi smeraldi provenienti dalla regione di Muso sono quelli di più alta qualità. Di conseguenza questa nostra lina Columbia, che è solamente una preview che presentiamo qua a Vicenza Oro, riteniamo che sia una collezione di alta gioielleria dove comunque il punto principale, il punto di valore non è stato solamente lo smeraldo, ma anche tutta quella che è stato il design del modello intorno allo smeraldo, proprio perché con il nostro reparto di design che abbiamo internamente all'azienda, siamo andati a costruire un gioiello che è una sorta di abito su misura intorno allo smeraldo. Grandissima attenzione come sempre alla selezione di diamanti che anche compongono il gioiello, questo grazie al nostro laboratorio gemmologico interno con dei gemmologi molto bravi, molto competenti che selezionano assolutamente il meglio diciamo per le nostre collezioni e questa con i smeraldi colombiani è un percorso che proseguirà inserendo anche tanti altri gioielli sempre contraddistinti da pietre preziose molto rare, molto evocative, molto ricercate.